La squadra mobile di Caltanizzetta ha arrestato due persone per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I due arrestati erano in auto insieme a due donne e un bimbo di pochi mesi quando, alla vista della polizia, che stava eseguendo un servizio di pattugliamento, hanno gettato via un involucro dal finestrino contenente quasi 100 grammi di cocaina. I poliziotti hanno quindi eseguito delle perquisizioni domiciliari che hanno permesso di acquisire altri elementi in ordine al traffico di sostanze stupefacenti. Gli agenti della squadra mobile hanno arrestato i due uomini e denunciato in stato di libertà le due donne che non avevano precedenti penali. La droga, una volta immessa sul mercato, avrebbe potuto fruttare fino a 10.000 euro. I due arrestati sono stati condotti in carcere e dopo la convalida da parte del GIP, uno dei due è stato rimesso in libertà.